E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite e che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore allora siamo ancora zitti, che così ci preferiscono tutti zitti come cani che obbediscono, ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole siamo la voce che può arrivare dove vuole